Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo su un gioco che si chiama Hyper e Diapers Una cosa del genere, signori miei, cosa consiste questo gioco? In questo gioco è il gioco del babysitter praticamente Succo succo, per stringere il gioco del babysitter, come potete vedere infatti c'è un grosso pannolino alla base del disegno del gioco Sì, va bene, mi sto perdendo, allora, non perdiamo tempo e partiamo subito, allora, passiamoci le maniche perché il giochino del babysitter è una gran rotola di Zebedei Allora, in cosa consiste il gioco? Ecco, qui abbiamo i nostri bellissimi Dark e Foxina e questa la capiranno in poco E iniziano uscire dei bambini, signori miei, ai quali noi dobbiamo dar conto, signori miei, dobbiamo tenere, dobbiamo, ecco, dobbiamo accudire i bambini che questi due tizi Copulando, non fanno altro che mettere alla luce, ecco, allora io l'ho provato già questo gioco, il problema, ecco, vedete che questi bambini sono un attimino assatanati Do sta andando questo? Va bene, stati di sul tavolo, l'altro? Ok, l'altro è qua, però è uscito dal cestone, no, torna nel cestone Torna nel cestone, ok Io questo giochino, dove è finito? Ok, sta pensando, no, no, nel frigorifero, non ci devi andare, chiudi il frigorifero Io l'ho provato un attimino, cazzarola, già è spuntato il terzo, il terzo con il ricciolino in testa, che cosa carina Avevo provato questo giochino, signori miei, do sta andando, do sta andando, è un pericolo, è un pericolo No, no, nel forno non ci devi andare, nel forno, chiudiamo il forno, non ci devi andare nel forno L'altro dov'è? L'altro? Che cosa c'è in testa? È pronta la guerra? No, ho sentito un brutto rumore No, no, nel forno non ci devi andare Ho provato questo giochino off camera, signori miei, per vedere se andava tutto bene E il mio record è 22, come potete vedere dallo schermata qua No, 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 via dal forno, chiudi il forno Nel frigorifero non c'è nessuno? No, no, bambini arrosto, non ne vogliamo, signori miei Ora, man mano che si va avanti nel gioco, si aprono le porte delle stanze No, 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 infatti, siamo a 6 bambini e hanno aperto questa porta di qua E quindi qui abbiamo la camera da letto di non so chi Però va bene, allora, dobbiamo cercare di tenerli tutti sotto controllo Via, no, no, esce uno entro l'altro, raga Ce le avete le culle? Dico io, perché non state nella culla? Finora siamo a 7 bambini, signori miei, 7 bambini, questo sta pensando Questo sta pensando... no, mi ha fregato, pensava fosse l'altro che faceva danno E invece è stato lui Allora, stiamo calmi, stiamo calmi Qui c'è qualcuno, questo bambino che sta facendo Ok, tutto tranquillo, sento stani rumori No, nel forno non ci deve stare E neanche nel frigo, no, no, nel freezer Abbiamo tre vite noi, come potete vedere in alto, signori miei No, no, non si guardano i video al computer Sei ancora troppo giovane C'è qualcuno che sta creando danno? No Che carino questo bambino, ma che carino, ma sei carino Ma lo sai che sei molto carino Quasi, quasi ti faccio la pixel art su Minecraft Di questi bambini Simpaticissimi Dai, sono tutti tranquilli, sono tutti tranquilli No, 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 brutto rumore, brutto rumore Siamo a 10 bambini, raga, siamo a 10 bambini Record, record... no, 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 no Perché gli piace il freezer? Dico... Dico, non fa tutto questo caldo Che... qui non c'è nessuno Ok, sento ancora il freezer Fa venire un attimino l'ansia questo gioco Perché dobbiamo stare attenti a tutti questi bambini No, no, il bambino nel forno, no Non è il 4 luglio Non è... non possiamo fare il tacchino ripieno No, quindi cortesemente tutti fuori Qua sotto c'è qualcuno al computer Sì, staccati dal computer Ho sentito... il bambino sta cuocendo Via da qua e via dal congelatore Certo che posti estremi però No, no, ho detto via dal congelatore Bimbo, siamo a 12 bambini No, no, fuori dal forno, grazie 13 bambini, raga, 13 bambini e siamo ancora vivi 13 bambini... no, no, no Al computer, lo t'ho visto T'ho visto Fermi, fermi Bambino arrosto, bambino arrosto Salvati in estremis Bambino salvati in estremis, signori mie No, 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 no Non ci devi andare nel forno Nel freezer Sono ringredinito, raga 14 bambini Sono troppi bambini Ma quanto stanno questi qua a copulare? Praticamente tutta la vita Stanno copulando tutta la vita Tu staccati al computer C'è qualcuno Via, via dal forno Via dal freezer No, hanno aperto pure l'altra porta Hanno aperto pure l'altra porta, raga Siamo nella cacca Hanno aperto l'altra porta No, quello è andato nel freezer Via, via, via Perché? Ce n'è uno sulla menzola Raga, ce n'è uno sulla menzola No, no Ne esce uno e entra l'altro Ma me la fanno a posto Dai, dai, dai Perché questo è sulla menzola? No, è caduto dalla menzola Ok, questo al computer No, no Devo dire al computer Oh, fermi tutti, fermi tutti Questo Me l'ha fatta a posto Sta dormendo Ok, il bambino nel forno Bambino nel forno Ok, bambino nel freezer Bambino nel freezer Via il bambino nel freezer Siamo troppo pro, raga Ho 17 bambini Posso fare il babysitter, raga Se mi va male lo youtuber Posso fare il babysitter No, uno mi è morto Quando mi è morto un bambino, raga? Quando mi è morto un bambino? No Vedete, in alto C'ho una faccina tutta nera Vuol dire che uno mi è morto Ma quando mi è morto, raga? Beh, certo Perché devo controllare anche La lavastoviglie Io ho la lavatrice sopra Praticamente Devo controllare La lavatrice qua sopra Ecco, infatti Pure dentro la lavatrice Fermi tutti Il bambino nel forno No Il bambino nel freezer No Il bambino nella lavatrice No Il bambino nel freezer No 19 bambini, raga 19 bambini 19 bambini nel forno No Nel forno No Nel freezer No Nella lavatrice No Ok Andiamo a vedere al computer Al computer Al computer Al computer Mannaggia a te Presi in estremis, raga Presi in estremis Bambini e internet Vanno male Oh 21 21 Posso battere il record Che ho fatto l'altra volta, raga Sono tutti liberi? Sì? 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 Siamo tutti bene Sì? Qui non c'è nessuno E che fa? E che fa? L'ho chiamato Qui non c'è nessuno Nel forno Fuori Nel forno fuori Nel freezer fuori Nella lavatrice fuori C'è la fila per entrare Nella lavatrice Praticamente, raga Ma stiamo a scherzare No, no, nel forno No, nel forno No, record, raga Record, record Dov'è il pallino? Porca miseria a te Dov'è? 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 Salvato Salvato uno Salvato due Salvato tre Gli ho presi tutti Gli ho presi tutti Nuovo record, raga Nuovo record, raga Nuovo record No, me ne è morto un altro Dov'è morto? Ma perché mi muoiono Senza dirmi niente? Me ne sono morti due Però è nuovo record, raga 23 bambini 23 bambini, raga Arriviamo a 25, secondo voi? Arriviamo a 25 Prima che Prima che mi muoiono Prima che Dai, fatene un altro Fatene un altro Porca miseria Copulate, copulate Ne voglio 25 Voglio il record Voglio il record di 25 bambini Dai, dai, dai Dove sono? Dove sono? Qua dentro e qua dentro Via, via, via Fuori, fuori, fuori Nel forno c'è nessuna Si è aperto un'altra porta, raga Si è aperto un'altra porta Siamo a 25 bambini Si è aperto un'altra porta Che non so dove No, si è aperto pure il bagno Si è aperto pure il bagno E sta a morire È morto 25 bambini, raga Siamo riusciti a tenere 26 26 26 bambini Siamo riusciti a tenere sotto controllo 26 bambini Perché questo c'è il nasino rosso? Che carino questo c'è il nasino rosso Guarda, è un gioco È un gioco tranquillo, dico io È un gioco tranquillo Dico Guarda, è bello Sta tra le braccia di Dark e Foxina Sta bello, tranquillo Nessuno lo tocca Nessuno si muove No Sono due già Sono due uno sopra l'altro Raga, forse si è bugato il gioco, raga Sono tutti fermi Che cosa bellissima Sono fermi Sono fermi Non si muovono Bello, sì, dai Baccatevi così Che non si muove nessuno Cioè, appunto Questo è più ciccioso Questo è più ciccioso Raga, sono tre bambini Tutti e tre fermi No, è perché io parlo È perché io parlo È perché io parlo Va bene Vediamo, vediamo Quando riusciamo a arrivare Questa volta Prima di sclarare male, raga Raga, siamo a dieci bambini E tutto va bene Siamo a dieci bambini E ancora non è morto nessuno Raga, sta andando bene Sta andando bene Li sto tenendo sotto controllo Li sto tenendo sotto controllo Più o meno Più o meno C'è questo ciccioso Guarda, guarda il ciccioso Come è sempre pronto Già a uscire dalla porta Praticamente Dove cazzo Che è stata a fa' Freezer, freezer Oh, siamo a undici Siamo a undici E tutto va bene Signorami Tu, clusterclano Vuoi tornare a dormire Grazie Questo fuori dal freezer Ok Dodici ancora non è morto nessuno Raga, dodici ancora non è morto nessuno No Fermi, fermi, fermi Dodici ancora non è morto nessuno Bella così, bella così Sta andando bene Sta andando bene, raga Sta andando bene Dodici, sto vomitando È troppo veloce col mouse Questo gioco Però va bene Fuori da qui Qui c'è nessuno No, va bene Questa porta è ancora chiusa Siamo a tredici, raga Tredici e tutto va bene Tredici e tutto va bene Siamo a sedici, raga Siamo a sedici e tutto va bene Però hanno aperto anche l'altra porta Signorami Quindi dovremo stare anche attenti Alla lavatrice Lì, quella Quella cazzarola è Raga, raga, raga Computer No, via dal computer Via dal computer Via dal computer Via dal freezer Non devi stare dentro il freezer Fuori dal freezer Ho detto Nel forno non ci dovete stare Computer Staccati dal computer Siamo a 18, ragazzi Avviciniamo al record Siamo a 18 Tu fuori dal freezer Dentro l'avatrice c'è nessuno No Dentro l'avatrice non c'è nessuno Siamo a 18 Siamo a 18 Tu staccati dal computer Chi è che è attaccato al computer? Chi sta a morire? Forno fuori dal forno Fuori dal freezer Cortesemente No, ho detto fuori dal freezer Ho detto fuori dal freezer Qua non c'è nessuno Qua non c'è nessuno Qua c'è la catera Qua c'è la fila Per guardare i video porno Sul computer Tutti lontani dal computer Ho detto Ho detto Tutti lontani dal computer Dentro il forno No Fuori dal forno Cortesemente fuori dal freezer No Nella lavatrice ancora Per fortuna Non ci va nessuno Ragazzi Siamo a 20 Siamo a 20 Siamo vicinissimi al record Siamo vicinissimi al record Me ne mancano 5 Me ne mancano 6 No Chi c'è? Dentro da qua Via Fuori Qui ancora non c'è nessuno Perfetto Sono tutti sotto controllo Sono a 21 Sono a 21 Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare A tenerli sotto controllo Fuori No 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 Mi sta a morire qualcuno Mi sta a morire qualcuno Lo sento Lo sento Lo sento Qui per fortuna La lavatrice però Non ci va nessuno Però non ci va nessuno La lavatrice Siamo ancora a 21 22 bambini raga 22 bambini Ce la posso fare Te devi levare dal computer Te devi levare Stati sulla mensola No 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 Il bambino al forno Via Il bambino al forno Via Il bambino congelato Via Il bambino nella lavatrice Via Altro bambino nel freezer Altro bambino nella lavatrice No ma perché? Levatevi nel forno Non c'è nessuno Al computer Porca miseria al computer Il forno Il forno Il forno Fuori il bambino dal forno Fuori il bambino dal forno Fuori il bambino dal freezer Fuori il bambino dalla lavatrice Mamma mia 23 raga 23 Ce ne mancano 3 per battere il record Ce ne mancano 3 per battere il record Mamma mia Qualcuno si è infilato Qualcuno si è infilato Staccati dal computer Staccati Esci dal micron Da quello che cade dal freezer Fuori dall'alavatrice Fuori dal freezer Fuori dall'alavatrice Ho detto Nel forno per fortuna Per ora non ci va più nessuno Per fortuna Nel forno però Non ci va nessuno Per forno però non ci va più nessuno No, hanno aperto un'altra porta, raga Siamo a 25 Tu fuori No, 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 non mi morire Non mi morire, ti ho detto Tu fuori dal freezer Nel forno non ci va più nessuno, raga Ma non so dove stanno andando gli altri 26, raga, 26, 26, 26 Siamo nel record Me ne manca uno per battere il record Dovete uscire No, fuori dal forno Fuori dal forno Chi è che sta a morire? Fuori dalla lavatrice 26, 26, 26 27, raga Record, record, record Ne abbiamo 27 bambini Chi è che sta morendo? Dove? Nella lava? No, nella vasca Pure la vasca No, uno è morto Ne abbiamo perso uno, raga Ne abbiamo perso uno Ne abbiamo perso uno Mannaggia la pupazza Ne abbiamo perso uno Fuori dalla vasca, ti ho detto Torna qua Chi è che sta a morire? Chi è che sta a morire? Tu fuori Chi è che sta a morire? No, ne ho persi due Ne ho persi due a 28 Ne ho persi due a 28, raga Ne ho persi due a 28 Riusci a arrivare a 30, secondo voi? Secondo me no Secondo me non ci arriva a 30 Secondo me non ci arriva a la vasca La vasca, la vasca, la vasca, la vasca, la vasca L'abbiamo salvato in estremi Se forno, il forno Finita, raga A 29 bambini Siamo riusciti a stare dietro a 29 bambini Detto questo, io basta, basta Diciamo che 29 sono fin troppi bambini Detto questo era il solito Vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Noi ci vediamo alle 2 e mezza Per la prima live sul canale Detto questo, una buona mattinata E un buon studio a tutti quanti O per tutto quello che dovete fare Bella, raga Ciao Ciao